Ciao amici, oggi andiamo a recensire questo stereo per automobile, un lettore mp3 ha il telecomandino per poterlo comodamente azionare anche a distanza vediamo di cosa si tratta, questi sono i vari cavetti che vengono poi collegati allo stereo per poterlo far partire lo strumentino che permette all'altro stereo di poter essere poi sostituito, un altro cavo e questo è lo stereo, vediamolo un attimo come è fatto, ma piccolino, veramente piccolino però dà l'idea dei vecchi steli di una volta, c'è addirittura il sensore di chiamata quindi per poter chiamare, per poter chiudere la chiamata i vari lettori, l'inserimento dell'USB, questo USB poi se non erro è particolare perché permette anche il caricamento di altri dispositivi non riesco ad aprirlo, ok, con tutte le mani impegnate ci sono gli attacchi, il fusibile e questo è la mano poi per poter modificare poi, cambiare i canali per poter alzare e abbassare il volume, mentre questo qui è il telecomando che permette poi il funzionamento del nostro stereo il prodotto sembra fatto abbastanza bene, molto leggero e niente, ora come facciamo sempre lo valuteremo, lo monteremo e poi daremo una valutazione non a 5 stelle a seconda della qualità di questo prodotto vi ringraziamo per l'attenzione mostrata e ci vediamo presto